la voce della tua città e voilà siamo di più ma guarda che meraviglia guarda che sfondo favoloso che ti ho dedicato stamattina Eliana no a Carmelo l'hai dedicato ragazzi comunque ci si vede spesso ultimamente sembriamo un club evidentemente abbiamo qualcosa in comune ci siamo dimenticati di chiamare Rizzuto eravamo in quattro l'ultima volta ci siamo dimenticati di chiamare Giuseppe che salutiamo con il quale ho condiviso la bella avventura del festino senti i nostri ascoltatori precisissimi ti richiamano Ivan tu che andavi in giro senza giacca per il festino ti sembra giusto? direbbi con 40 gradi a fare però non ti si riconosceva c'è capito? era tipo Giorro che metti la mascherina e già non sanno più chi è Ivan uguale senza giacca ma chi sarà mai? ma devo dire che mi sentivo un po' a disagio mi sentivo un po' nudo senza giacca esatto Carmelo Galati quanto manca due giorni? ci siamo poco poco quindi l'ansia cresce mi fa strano vederti qui perché quando manca poco normalmente tu fai il collegamento e te ne vai in posti assurdi della città che ne so dalla zecca o da piazza lui è un peripatetico lui faceva i collegamenti come gli attichi i nobili lo trovo un po' statico questo giro vabbè la stanchezza l'età capito doveva stare con noi ho un ginocchio fatto male quindi doveva stare in studio ok quindi si riparterà fra pochissimo e ci vogliono scarpe buone fra due minuti entriamo anche in FM quindi saremo più completi più precisi però partiamo dalla grande novità di quest'anno cambio location e questa e sai che non tutti ancora se ne sono accorti perché in queste settimane in questi giorni quando è capitato di parlare di Cinema City dice ah sì perché lì accanto al mare è bellissimo ho detto secondo me quest'anno non è proprio proprio accanto al mare esattamente ma come? ho detto il punto credo di questa iniziativa non sia il luogo fisso quello anzi parte proprio dal contrario dall'offrirsi alla città sì diciamo che abbiamo lavorato molto parallelamente a due a due grandi desideri uno quello di offrire un programma molto vario un programma che fa un viaggio all'interno dei vari generi dell'opera filmica con ospiti con autori registi interpreti maestranze per noi molto importanti del mondo del cinema l'altro parallelo cioè parallelamente corre il desiderio di Cinema City di collocarsi come un progetto socio-culturale perché va a rigenerare va a farsi come dire a riappropriarsi di luoghi della città che non sono esattamente vissuti che non sono esattamente come dire attraversati col corpo se possiamo usare questo termine e quindi come l'abbiamo fatto per Sant'Erasmo che adesso finalmente nel vuoto al fronte della città grazie all'autorità portuale al Comunità di Palermo è stata restituita ai cittadini si può passeggiare tranquillamente dopo anni in cui noi ripeto sempre grazie a Pasqualino Monti siamo riusciti a fare tre anni di manifestazione con un numero incredibile di pubblico adesso andiamo in un luogo molto più reale e ci sa reale e regale tra l'altro fa strano vedere questa immagine che avevano scelto alle nostre spalle perché dopo aver visto Palazzo Reale la piazza del Parlamento dal buio alle luce con il videomapping con un sacco di gente vederla in queste immagini alla luce del sole vuota e così silenziosa subito a 48 ore del festino perché sta aspettando il grande schermo è certo e adesso ci faremo svelare anche ce lo dici dove lo piazzate o non ce lo dici? allora entriamo in radio se ci sarai questi Luna Pop su Radio In Ivan Scinardo l'ho detto è un momento déjà vu perché siamo stati insieme pochissime ore fa annunciando appunto ciò che accadrà a partire dal 18 luglio fino al 24 luglio quest'anno per la prima volta in piazza del Parlamento a Palermo di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando di Cinema City torna alla grande la sesta edizione per 5 anni in un luogo splendido un posizionamento nell'immaginario collettivo grandioso che è stata la passeggiata di Santerasmo la grande scommessa dal coraggioso direttore artistico Carmelo Galati adesso ci si sposta a piazza del Parlamento luogo storico itinerario dell'UNESCO scenografia reale ma quanto mi piace questa frase guarda caso Carmelo Galati è qui con noi benvenuto che insieme abbiamo trovato al bar alle 8.30 del mattino esattamente intanto grazie dell'ospitalità grazie Eliana grazie Ivan perché sei intanto un amico e mi piace poterlo dire sei un grande professionista perché dialogare con coloro che è come quando io ho fatto l'attore per tanti anni quando quando lavori con un grande attore e quell'attore lì migliora la tua performance e allora quando dialoghi con una persona con cui si sviluppano le idee si alza il livello anche del pensiero è bello e quindi Ivan io ti ringrazio perché molte parole vengono fuori così cena pagata io non gli ho mai detto nulla di così carino in quasi 4 anni mai niente mi sto sentendo in colpa vabbè guarda che belli che siamo questa è la conferenza stampa Eliana per il nostro pubblico che ci segue su facebook che ci ascolta la radio dice che questi sono schizofrenici no però Dario Ferrante potrebbe dire di peggio non lo so ha detto soltanto buongiorno viva Palermo e viva Santa Rosalia a proposito di Santa Rosalia la locandina di quest'anno di Palermo Cinema City c'è Santa Rosalia esatto perché era l'omaggio che noi volevamo fare come tutti coloro che quest'anno hanno partecipato degli eventi collaterali del festino noi non abbiamo partecipiamo in altro modo nel senso che le nostre missioni sono quelle di creare eventi culturali noi lo facciamo col cinema lo facciamo anche con altro nel corso dell'anno ma in particolare questo qui abbiamo voluto ai nostri artisti di poter pensare qualcosa che potesse ricordare e omaggiare la nostra Santa l'abbiamo fatto in questo modo con una rosa che parla con la bocca di Santa Rosalia che viene coperta perché il cinema a parlare in quei giorni lì perché la rosa è fatta proprio di questa pellicola cinematografica esattamente e saranno i film che noi proporremo quelle serie lì a parlare quanti film avremo Carmelo? noi avremo quest'anno in questa edizione Cinema City ben 14 proiezioni ci tengo a precisare che Cinema City è cominciato già qualche tempo fa perché ci sono state due bellissime anticipazioni all'interno perché noi amiamo con i nostri progetti come dire pontificare adesso non come il Papa ma pontificare cioè creare dei ponti e dei dialoghi non come quelli sullo stretto e quelli chissà se si faranno ok quindi dei ponti virtuali dialogare con altre realtà culturali che sono esistenti sul territorio in particolare una marina di libri è la Sisi di Music Conference lì abbiamo fatto un bellissimo documentare su Lucio Dalla la Sisi di Music Conference mentre una marina di libri abbiamo fatto come anticipazione Cinema City un bellissimo omaggio a Umberto Eco un film di Davide Ferradio che si chiama Umberto Eco la biblioteca del mondo noi continuiamo a parlare in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In mentre alla radio c'è spazio per i Queen Play the Game ho scavato fra gli archivi di Cinema City e c'è un bellissimo filmato che racconta la scorsa edizione che noi vogliamo riproporre ai nostri fedelissimi di Facebook e se ti va lo vediamo insieme Giuseppe a te la parola Come on a te la parola a te la parola Don't forget the memory of a foreign and a place for you and I Come on let's go We'll get it away Just give me all of my I'll turn to the sky We'll take a minute to play But I should fly But you're so behind We'll step in our If it's all I'll fall to the world I'll take you with me and work Come on let's go Come on let's go Come on let's go Come on let's go Let's go Let's go Come on let's go Perché non ci vede quando siamo venuti io e Ivan? Scusami Non siamo VIP Ma noi c'eravamo Tu sei VIP No tu sei VIP E chi non te lo dice pure Sì ho detto così sembra Diana ama metterci in difficoltà Io Perché non c'eravamo io e Ivan eravamo tanto carucci Ci siamo fatti la fontina insieme con moglie e marito che rispettivamente andate voi si pustavano lì a guardare e noi ci siamo fatti la foto insieme della serie Guarda che memoria che hai In che senso? Non me lo ricordavo L'avevo rimossa Questa è la considerazione questo è il valore che ho io nella tua vita Che splendore che sei E niente basta chiuso discorso torniamo anche in radio Ma che vergogna fai tu fai tu che io faccio un po' l'offesa con un brano così difficile essere offesi torniamo a parlare di Cinema City il cinema nelle piazze che inizia il 18 luglio andrà avanti fino al 24 più di 14 no 14 proiezioni tutte rigorosamente gratuite quest'anno in piazza del Parlamento e tantissimi ospiti che saranno lì presenti perché il punto non è solo vedere assistere alla proiezione ma partecipare in maniera attiva anche con i protagonisti ed essere parte di un dialogo sul cinema Esattamente hai centrato esattamente il punto perché Cinema City non è soltanto intrattenimento cioè serata in cui uno si siede e guarda un film ma è una serata in cui ci si rende completamente partecipi della programmazione il pubblico è partecipi il pubblico è protagonista insieme ai nostri ospiti ogni sera in relazione al film che abbiamo in programma ci sono degli ospiti che sono sicuramente un attore un regista interprete del film che vediamo ma altri protagonisti sono ogni serata in collaborazione con un'associazione per dire ne dico la prima la prima sera prima donna di Marta Salina ospite aprirà il film e la manifestazione insomma Fabrizio Ferracane molto noto ormai al grande pubblico straordinario attore siciliano ospite di open day cinema in più occasioni grandissimo interprete e la serata è in collaborazione con Fare per Bene Onlus che è un'associazione che lavora contro la violenza sulle donne sui diritti di genere è un'associazione ripeto molto presente su tutto il livello nazionale e ci saranno dei rappresentanti regionali a parlare con noi quella sera è un film scelto in maniera scientifica da Carmelo Eliana perché Ferracane interpreta Pietro Crimi il papà c'è una bravissima Claudia Guzmano in questo film film che porta la regia di Marta Savina e che parte da una storia vera il famoso matrimonio riparatore ne abbiamo parlato diverse volte in open day cinema abbiamo fatto più puntate su questo film e la scelta di aprire davvero il 18 luglio con un film di questa portata e associarlo a un ente benefico come fare per bene credo sia davvero una strategia che miri anche a coinvolgere il territorio di piazza del Parlamento i famosi danesini ne abbiamo parlato per cui la trasversalità mi piace tanto evidenziarlo anche di un pubblico che non è fatto soltanto di elite ma anche che parte dal basso e che tutti nel nome della settima arte andranno davanti a questo schermo di Cinema City non ci sono migliori parole per scrivere questa manifestazione allora diamo qualche altro titolo andiamo avanti con il programma Carmelo il giorno dopo tipo c'è chi dà i numeri chi dà i titoli ognuno a seconda delle proprie condizioni il 19 luglio sarà la volta di un'anteprima in città sarà la volta di un bellissimo omaggio è una giornata in tanto particolare perché ricordo del nostro amato Paolo Borsellino la serata è in collaborazione con il Teatro Massimo il Teatro Massimo di Palermo ci sarà una bellissima apertura musicale della violoncellista della Massimo Kids Orchestra poi ci sarà l'assessore alla rigenerazione urbana Maurizio Carta che ci parlerà non solo di quel luogo lì e di quanto sta a cuore a lui a rigenerare i luoghi come facciamo noi di Cinema City ma ci parlerà di Michele Perriera la serata è in omaggio a Michele a questo grande drammaturgo un grandissimo artista forse troppo poco troppo poco ricordato e ci sono i due autori due tra l'altro bravissimi esponenti del centro sperimentale sono stati due allievi del centro sperimentale della sede Sicilia Ruben Monterosso e Federico Savonitto ci sarà il produttore Piero Lidonni e a seguire ci saranno dopo per la prima volta al Cinema City apriremo la parola al dibattito in qualche modo e ci saranno i protagonisti del documentario sono Emma Dante Gianfranco e Giuditta Perriera e anche il produttore Piero Lidonni ci sono due novità importanti Eliana intanto un premio ai mestieri del cinema che verrà dato a un location manager che attraverso il location manager tu sai che passa soprattutto l'immagine di un film e quindi la scelta dei luoghi da raccontare è strategica sono anni che Cinema City tenta e forse ci stiamo anche riuscendo di dare luce a coloro che sono le fondamente del cinema in verità tutti conoscono per suggestione conoscono i registi conoscono gli attori forse anche gli scrittori ma ci sono delle maestranze che sono veramente le fondamente perché sono persone che iniziano a lavorare mesi prima che inizino le riprese e che finiscono mesi dopo che le riprese sono finite e che fanno la differenza in silenzio esattamente che sono veramente dei grandissimi professionisti perché senza di loro quei capolavori quei premi e quel successo dei film probabilmente non potrebbero mai esserci noi dobbiamo andare in pubblicità Carmelo Cristian Peritore il premiato di quest'anno è Cristian Peritore uno dei più grandi location manager che abbiamo in Italia direi perché è il protagonista di grandissimi film continuiamo a parlare fra poco sveliamo dopo la pubblicità il premio alla carriera ah c'è anche il premio alla carriera c'erano le due a inizio ve lo diciamo fra pochissimo restate qui con noi su Radio In eccoci tornati salutiamo Oscar Mazza salutiamo Fabrizio Brugnoli e i tantissimi che sono collegati in questo momento con noi attraverso la pagina Facebook di Radio In ciao Oscar bravissimo fotografo di Piazza Armerina ah vedi che andiamo scoprendo qui bravo tutte le cose allora io direi che il discorso del premio alla carriera lo conserviamo per quando torniamo anche in FM perché li abbiamo lasciati in sospeso se no poi rimarranno con questa cosa e chi sarà mai e quando sarà come sarà e tutto il resto c'è stato anche nelle scorse edizioni no questa è la prima edizione ah questa è la prima volta infatti sì la prima volta e com'è venuta fuori questa cosa? è venuta fuori perché dialogando abbiamo tutti noi una rete di persone dialogando a un certo punto guardando il programma e guardando ci arriveremo all'ultima serata vedo questo cast e dico ma c'è lei ma può essere mai che c'è un'attrice così iconica iconica della nostra dell'arte della recitazione così così importante fra gli artisti siciliani e allora abbiamo detto forse è il caso di quest'anno facciamo questo salto in avanti però io questa cosa l'ho visto quando le hai detto ti vogliamo dare un premio che ho metto il risposto capito già facevo fatica a finire la domanda già rido solo a immaginare io avevo paura che lei mi dicesse no non posso venere pensavo anche perché sono morta c'era l'alternativa e che fa me l'è bene a rapicchiare ah sì ma dai 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 anzi le trovate in un momento in cui era presa bene che sono piccioli che c'entra quello no non è così non è così nulla a chi ci sta ascoltando ma a chi fa il cinema Alberto Mangiante è comunque un'icona è un'icona Alberto Mangiante è un altro per chi non lo conosce è un altro di quei personaggi che sono veramente le fondamenta di un set un set nel set al dia del regista evidentemente ma la figura fondamentale è l'aiuto regista l'aiuto regista è colui che ha in mente tutto il film dall'inizio alla fine ha tutta la truppa in testa e comanda veramente lui cioè non si muove una foglia se l'aiuto regista non lo dice beh Alberto Mangiante è la storia quindi qual è la vera differenza tra il regista e l'aiuto regista a parte la firma nella pratica per aiutare a capire l'organizzazione dei reparti è una pertinenza dell'aiuto quindi al regista ovviamente l'onore di battere il ciac ma il posizionamento del set l'organizzazione è dell'aiuto cioè l'aiuto è quello che veramente per dirla proprio si fa un mazzo muove completamente la macchina e ogni regista sceglie sempre un bravo un bravo aiuto ma per tornare a Mangiante Carmelo ha scelto un titolo favoloso di proiezione beh perché penso sempre intanto così dico una cosa forse a mio svantaggio però io a me piace io quando scelgo la programmazione del film a di là di fare tutta una linea che è ripeto un viaggio dentro l'opera filmica a me piace rivedere dei film che piacerebbe ripeto a me sul grande schermo hai 20 secondi per dire il titolo il titolo è La sconosciuta è uno dei film meno conosciuti di Tornatore ed è uno dei film secondo me più belli di Giuseppe Tornatore facci guardare come un'aliena parlavate così all'unisono dicendo le paroline a tempo siamo due patologici cinefili fantastici meravigliosi torniamo anche a radio e prima che arrivasse Alicia Keys nel nostro Open Day Cinema in cui siamo in compagnia di Carmelo Galati vi avevamo detto che vi avremmo svelato una novità un'altra delle novità della sesta edizione di Cinema City il cinema nelle piazze e questa riguarda un premio alla carriera sì Rullo di Tamburi si sa già a chi va oppure Top Secret si può dire secondo me si può dire è ufficiale lo abbiamo detto in conferenza stampa sì l'abbiamo detto in conferenza stampa è una delle interpreti più iconiche dell'arte della recitazione è uno dei personaggi più divertenti che io conosca nel mondo del cinema ed è l'artista mi piace così definirla con la maiuscola con la grandissima maiuscola è Aurora Quattrocchi detta Rory meravigliosa che è stata con noi pochissimo un paio di volte no no ma anche pochissimo forse non eravamo insieme no eravamo insieme l'ultima volta che è stata con noi sì eravamo insieme e quindi sarà sarà bellissimo anche vedere come cosa dire è previsto un discorso è previsto un discorso e ho paura registriamo tutto registriamo tutto che noi lo vogliamo ho un po' paura noi lo vogliamo vedere sentire mi fa piacere dire che Aurora sarà presente il 24 sera insieme a Daniele Cipri e a Fabrizio Falco che sono i protagonisti regista e interprete del film che abbiamo scelto per quella sera che è stato il figlio una commedia amara ma che ci farà ridere che ci farà riflettere con un bravissimo Tony Servillo con Manuela Rosicco insomma un cast veramente eccezionale Carmelo dove troviamo tutto il programma perché non è così a parole un po' tra una cosa e l'altra qualche info l'abbiamo data però è giusto che i cinefili all'ascolto chi vuole vivere Piazza del Parlamento sotto una luce fatta di stelle e di pellicole possa sapere esattamente cosa e dove trovare potete andare sui nostri canali social che sono quelli più visitati e sono Cinema City Palermo su Facebook e Cinema City punto Palermo su Instagram e sul nostro sito www.cinemacity.palermo.it io vorrei ancora entrare dentro il programma perché abbiamo dimenticato forse delle cose Corrado Fortuna abbiamo dimenticato esatto lo stavamo tenendo all'ultimo ci saranno altri due grandissimi interpreti dell'arte dell'agitazione ma non solo ci sarà Corrado Fortuna che presenterà chiudiamo questa ideale trilogia su Paolo Virzi iniziata qualche anno fa con Maneimi Stanino il debutto al cinema di Corrado e Corrado felicemente arriva da Roma impegnato su un set ma verrà a presentarlo e poi ci sarà anche il bellissimo continuo questa trilogia immaginaria su Paolo Sorrentino iniziata lo scorso anno con L'uomo in più quest'anno facciamo bellissimo Le conseguenze dell'amore e ci sarà il suo debutto al cinema perché non aveva mai fatto nullo fino a quel momento ci sarà Gaetano Bruno per molti conosciuto ormai anche a livello internazionale protagonista di serie come Fargo protagonista di serie internazionali di tantissimi film e sarà lui quella sera a presentarci mi raccomando la colonna sonora delle conseguenze dell'amore dei Lali Puma con quell'attacco favoloso che solo un maestro come Sorrentino poteva donarci e quindi riproporre un titolo così bello e importante è davvero una ricchezza è importante ricordare che Cinema City ha anche delle collaborazioni importantissime con media partner importanti una è Palermo Today che ci accompagna sempre l'altra l'altra media main media partner è Ray Cinema perché con Ray Cinema facciamo una collaborazione di questa su questa come dire sezione orizzontale di cortometraggi ci saranno dei cortometraggi che vi invito a vedere che sono abbiamo fatto una selezione veramente molto molto alta perché sono cortometraggi che sono stati in concorso ai premi Davide Donatello ai nastri d'argento proietteremo anche il premio vincitore dei premi Davide Donatello di Margherita Giusti The Mid Sellers e in particolare anche un cortometraggio degli allievi della scuola del centro sperimentale della sede Sicilia grazie Carmelo Garati per averci portato un po' di Cinema City non soltanto nelle piazze ma anche dentro Radio In grazie a voi sempre dell'ospitalità ci vediamo il 18 luglio a piazza del Parlamento esattamente dal 18 al 24 dal 24 vi aspettiamo e ancora una volta viva Palermo viva Santa Rosalia viva la Madonna del Carmelo che oggi è la Madonna del Carmelo e dai e quindi il tuo nomastico e quindi buono nomastico auguri e viva Cinema City e viva il Cinema City grazie ancora noi torniamo fra pochissimo dopo le news e si continua a parlare di cinema e si continua a parlare di cose straordinarie e andiamo praticamente a Tormina ma vi spieghiamo meglio fra poco rrrr radio grazie a tutti grazie a tutti